C'è intanto una meraviglia a Milano, di gran lunga la più importante, che non posso non descrivere, la cattedrale. Da lontano appare come ritagliata in un foglio di carta bianca, ma quando si è vicini ci si meraviglia nello scoprire che quei ritagli a forma di merletto sono innegabilmente di candido marmo. Se osserviamo l'intera opera un po' più a lungo, troviamo che è molto graziosa, colossalmente bella, un giocattolo per bambini giganteschi. Tuttavia, essa si presenta ancora meglio a mezzanotte, al chiaro di luna quando la folla di bianche figure di pietra scende dall'alto e ti accompagna per la piatta, bisbigliandoti all'orecchio un'antica storia. Tuttavia, questa si presenta ancora più a lungo, è un po' più a lungo, è un po' più a lungo, è un po' più a lungo. Tuttavia, questa si presenta ancora più a lungo, è un po' più a lungo, è un po' più a lungo. Tuttavia, questa si presenta ancora 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 più a lungo.